Isole di Stefano Chiantini con Asi Argento, Giorgio Colangeli e Ivan Flanek prodotto dalla OVRAF Film che uscirà in sala l'11 maggio distribuito dalla Zaro Film, ha già fatto un percorso festivaliero di grande importanza dal Toronto International Film Festival, al Festival Vestino Italiano di Madrid, al Victoria Film Festival, al Festival di Londra Cinema Movie in Italy e al Durban International Film Festival. Co-protagoniste le soleggiate e selvagge Isole Tremiti che fanno da sfondo questa storia dove casualmente si intrecciano tre solitudini vissute con molto ritegno in una casa canonica. Padrone di casa Don Enzo Giorgio Colangeli, un anziano sacerdote tutore di Martina a Asi Argento che strada facendo si è chiusa in un impenetrabile mutismo ed Ivan Ivan Flanek, un immigrato clandestino che in un microcosmo come quello dell'isola viene guardato e trattato con sospetto. Bravi, bravissimi gli interpreti perfettamente calibrati nell'espressione del tormento interiore che abita il loro mondo fatto di insicurezze, paure, malattie e squarci di dolorosi ricordi.